Durante un concerto a Baia Felice, il celebre cantante napoletano Gigione ha vissuto un momento di grande paura. Mentre stava cantando il suo brano Trapanarella, uno dei suoi cavalli di battaglia, le assi del palco hanno improvvisamente ceduto sotto di lui, facendolo cadere a terra. Nonostante l'incidente sia stato piuttosto spaventoso, Gigione è fortunatamente uscito illeso dall'accaduto senza riportare gravi conseguenze. La reazione del pubblico è stata di grande preoccupazione, ma anche di sollievo quando hanno visto che il cantante si rialzava senza problemi. Gigione, conosciuto per la sua energia e simpatia, ha gestito la situazione con la sua solita verve, rassicurando i presenti e proseguendo il concerto con il suo inconfondibile spirito. L'incidente ha comunque sottolineato l'importanza della sicurezza durante eventi di questo tipo affinché simili episodi possano essere evitati in futuro.